Musica Il messaggero con l'ultima notizia del duro dell'Abruzzo del circolo polare L'aumento del pane 53 centesimi al chilo Ragazza di San Lorenzo beve un litro di parecchina perché sta accorce di essere incinta La parecchina la doveva beve quello scellerato che l'ha rovinata qua poveretta Ma quale poveretta signor, se vede che prima gli è piaciuto Come si dice, se il fodero non sta fermo, la sciampola mica può entrare Eh? Passaggiano! Acianci e gnocchi, ma che stai a fare? Sto a lavorare Eh ma parrucchiere, con quante R si scrive? Perché? Quante ce ne vanno? Beh io non lo so, domandamolo a Don Placido che ha studiato, ha fatto l'università Erbè, starciaro! Riccite, dammi il giornale Eccolo, sorciere Avete visto? Quasi centomila lire di debita al comune Ah, sorciere, non c'è stanno le notizie della guerra del Sudafrica? Un momento Ah sì, ecco qua Vittoria dell'inglese a Kimberley I boeri ritirata Ritirata che vuol dire? E' il cesso Ma quale cesso? Ammazzate quanto sei ignorante Sentite un po' questa E' il cesso